Un'altra udienza per il processo dell'omicidio di Aldo Gioia. Questa mattina in aula il giudice Pierpaolo Calabrese ha ascoltato i testi chiamati a testimoniare nel procedimento a carico di Elena Gioia e Giovanni Limata. Questa volta ad assistere all'udienza soltanto il giovane, assente invece la sua ex fidanzata Elena. A descrivere i momenti precedenti e successivi al delitto di corso Vittorio Emanuele sono stati gli agenti della squadra mobile, a cominciare dal dirigente Gianluca Aurilia che la notte tra il 23 e il 24 aprile scorso ha coordinato le operazioni. Il viceguestore insieme ai suoi uomini ha ricostruito minuto per minuto quanto accaduto. All'esame anche i filmati delle telecamere che hanno descritto il momento in cui è arrivato Limata e quello quando è fuggito via. Pochi minuti sono bastati per compiere quel terribile omicidio. In aula gli avvocati di Elena, la penalista Livia Rossi e l'avvocato della parte civile Brigida Cesta. Noi come parti civili, quindi come fratelli del Gioia, abbiamo vissuto questa ricostruzione in maniera dolorosa soprattutto in considerazione del fatto che è stata confermata l'assoluta lucidità di Aldo quando sono sopraggiunti gli agenti presso l'abitazione. Ho fatto io una domanda perché quello è un unico ambiente, è un'unica stanza. Non era seduta in un'altra... Non è così, insomma, non è un'altra stanza, è un unico ambiente. Nella prossima udienza che si terrà il 22 dicembre saranno ascoltati il medico legale, la dottoressa Sementa e la moglie di Aldo Gioia insieme all'altra figlia, Emilia. Grazie. 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 Grazie.